Lanciata la volata, Alessandro Fattini che va ad attivicarsi da Carafondo e Colli a Scolani, Sfera Maratona davanti a Giampaolo Guzmani. Una corsa perfetta, una volata perfetta? Una corsa perfetta, l'abbiamo cercata dall'inizio, siamo andati in fuga quasi dall'inizio, una buona sintonia tra tutti i compagni, ci siamo ritrovati qua sull'ultimo chilometro in due. E' una volata perfetta, diciamo che mi è andata bene. Che bella gara e che bello arrivo. Bella gara, bello arrivo e anche molto dura, devo dire, veramente molto bella, sono molto contento. Lanciata la volata, Alessandro Fattini che va ad attivicarsi da Carafondo e Colli a Scolani, Sfera Maratona davanti a Giampaolo Guzmani. Sfera Maratona davanti a Giampaolo Guzmani.